In Italia, quasi 7 milioni di persone hanno partecipato ad uno dei 900 gruppi di acquisto solidali presenti sul territorio. Di questi, circa l'11% è in Toscana. CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana, aiuta le associazioni di volontariato con progetti mirati e gratuiti. Il volontariato toscano ha i numeri. Campagna promossa da CESVOT. CESVOT.